Io vi voglio fare un ringraziamento veramente a nome di Fondazione per il modo in cui ci avete accompagnato. Questo è un ringraziamento che va anche al pubblico perché ci aspettavamo pazienza e ci aspettavamo anche comprensione, ma credo che sia stato un elemento fondamentale anche per aiutarci ad andare avanti in queste giornate. Vi cito una frase proprio di Steve McQueen, l'ha dichiarata pubblicamente, virgolettata. È meraviglioso quello che sta succedendo in questi giorni alla festa del cinema di Roma. Tutto il mondo del cinema vi sta guardando e prendendo come esempio. Credo che un complimento più bello non ce lo potesse fare nessuno. Javier Fuentes-Leon è un risultato straordinario quello che siete riusciti a fare nonostante gli enormi ostacoli della pandemia. È importante perché l'idea di raggiungeremo ancora in realtà, non in una Zoom call, di parlare di ciò che si chiedono, è ancora importante. Ho spero che la cultura sia ancora importante. Ho spero che i filmi sia ancora importanti. Ho spero che tutti non siamo stati chiediti da i nostri governi che bisogna di creare le famiglie, perché musica, art e film non sono più importanti dopo la pandemia. Ho spero che le persone stanno prendere la cultura. E' stata una manifestazione complessa. Difficile. perché il paese, il mondo, sta passando un periodo tragico. Tuttavia, ci portiamo a casa tante cose, tante emozioni, tanti incontri rafficinati meravigliosi, uno è con Tom York, ma potete dire John Waters, Steve McQueen, Thomas Wittenberg, i fratelli di Inno Genzo, Gabriele Manetti, Tamiya Chazelle, Sally Smith, Werner Herzog online. E ci portiamo a casa dei figli che sono stati apprezzati da tutti. Grazie a tutti.